6 luglio 1535 Sir Thomas More viene decapitato. Filosofo e politico inglese, cattolico fervente, oppositore dello scisma anglicano, nel 1529 fu nominato cancelliere per sostituire l'arcivescovo di York, che non era riuscito a ottenere dal Papa Clemente VII l'annullamento delle nozze tra Enrico VIII e Caterina d'Aragona. Il suo ripudio morale e canonico di una simile richiesta e la ferma convinzione dell'indissolubilità del sacramento del matrimonio causarono l'ira di Enrico VIII, che si mise a capo della chiesa anglicana pur di imporre il proprio volere e sposare Anna Bolena. Richiesto di giurare fedeltà al re in quanto capo della chiesa, rifiutò. Imprigionato nella Torre di Londra, Sir Thomas More fu accusato di alto tradimento e condannato a morte, eseguita tre anni dopo per decapitazione. Esemplare educatore, stimato per l'integrità, l'acutezza intellettuale, l'erudizione e il carattere aperto e gioviale, venne proclamato santo nel 1935, 400 anni dopo il martirio, da Pio XI. Giovanni Paolo II, nel corso del grande giubileo del 2000, lo scelse come patrono degli uomini di Stato e dei politici.